Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Tutto bene! Tutto bene! Tutto bene! Sto facendo alcune cose adesso. Non mi piace la slavera, quindi... Voglio supportare i miei ragazzi black. Giovanni, grazie per il Prime. Nathan, ben tornato. Dade, grazie per il resab. Cioè, fratello... Sì, ma che bisogna andare? Bisogna creare un dibattito. Ma che bisogna andare? Sì, non si può andare da nessuna parte perché entrano sempre gli stessi quattro rincoglioniti, porco di Dio. Cioè... Ma dove vuoi andare? Vabbè Aline, tizio porco. Aline... Come cazzo si chiama quello che fa il video su TikTok col balaclava? Con un ricordo che ti faceva ridere. Ok... No, è ok. Ma che risata c'ha? Ma che è? Una giraffa, zio porco. Yoink. Mmm, sus. Che sta a fa' quest'altra? Che c'ha' a mano? Tornata. Sono molto tranquillo. What? Ma tu che... Che stai scoprendo? Dio GAAAAN! GOOOOE! QUANDO HAI OTTAGUTO QUESTO POTERE! Mi chiedo io Ragnar c'è ancora campo C'è ancora campo L'ha fatto ancora Emoji fuoco Buongiorno Youtuber summer cup Ma sei scemo Non fare vedere ovviamente Chi cazzo sto guardando Chiudi sta cazzo di live Chiudi sta cazzo di live Chiudi sta cazzo di live La cacca Chiudi sta cazzo di live La cacca Chiudi sta cazzo di live La cacca La cacca Chiudi sta cazzo di live Chiudi sta cazzo di live La cacca Posso dire una cosa di cui mi inventerò tra poco Secondo me ci divertiamo Io mi metto il microfono in bocca Non posso farlo rattristire bro Il prossimo sei te Mario Il prossimo sei te Prova a sfiorarmi con quei piedi fetidi E vedi che cazzo di fine fai E non sto parlando né di avvocati E né di ripercussioni fisiche Elegante, sexy, bello Come vuole lui Lo stile e l'eleganza di un uomo Che ormai ce l'ha in pugno Impossibile sbagliare da ora in poi Se sale su meteorite E sono un pezzo di merda No non ti devi preoccupare Marzo Perché ti preoccupi Non mi preoccupi che lo sono Frate non mi sei aggrappato Eccolo perché il Sykes ci va E ragazzi io sono fan di un uomo fusillo Però voglio vedere Bavaro brillare Vedo il Bavaro un po' affaticato Forse un po' in difficoltà il Bavaro Ehi Che vuole la La E de Gragas Oh Oddio Oddio Oh Hai perso Hai perso Oh Che sleppa Ma fatè Eh ma perché se uomo fusillo Gli ha dato una sleppa sulla Sisa Sì Che sleppone Quanto ci metti? Ah 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 Ciao Rocco Però io sul mio account Pezzo di merda Scarica Ah non c'è là Manu sei succube Eh Marzo c'è il mio account Mi rendo utile anche per il vostro contenuto No Devi lasciarlo pagare Porco Dio Sì Dovresti lasciarlo pagare Se io risparmio 15 euro Prima cosa 16 Tu mi vedi? Sì 10 giorni potevo essere morto Potevo essere Non lo so Potevo essere qualsiasi roba Ma la prima cosa Zì È lei È la Kings League La Kings League non la facciamo più Perché la Got League ha deciso De prendere una sedia De fa così De attaccare un cappio De salire sulla sedia E direttamente De lanciarsi di sotto Quindi sti cazzi De fa la Kings League Era una gara Che c'ave per cazzo più grosso L'ha vinta la Kings League Italia E vaffanculo Ne salta tutto qua Tutto qua Hai sbombato Non facciamo più nulla Era tutto uno scherzo Una grande burla In realtà Caschiamo sopra Un microchip Ok Doppia signorina Qua tocca Tocca Firma un contratto Porco Dio Mi sono cagato in mano Mi sono cagato Ma che siamo Scemi Ma se puoi Prendi Un'aggiunta di maiale La mozzarella Dei Minions E per le femmine C'è anche quella di Frozen Quanto sono grandi Queste pizze Fratello di Ma a me è rimasto in mano questo Vabbè Anzi A me queste pizze Ma che cazzo di scena è Scusa Ciao E alle volte succede Minchia A me queste pizze Lo tocchio Sì Ne prendo ben due Ben tre Ben quattro Ma soprattutto Prendo il tuo Oh ammazza Che modello Ma ci sta No 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 sì Però È successo Ma non capisco Perché continui a rimanermi in mano Questa roba Anzi Cioè Ti giuro L'ho anche L'ho anche Messa più dura Gorilla Grazie per i tre